Sassuolo Juventus Il lunedì perché ragazzi comunque la partita si gioca domenica alle 12.30 quindi voglio fare questo video per fare la mia reaction alla partita ragazzi io userò il tablet per vedere la partita anche sulla televisione per fare questa reaction non voglio mettermi in una posizione diversa e quindi voglio stare qua con l'iPad partiamo subito ragazzi che questo video farò vedere solo credo gli likes e qualche altra azione pericolosa della Juventus e magari del Sassuolo se ci sarà spero di no così almeno abbiamo più vita facile Quindi ragazzi io non mi resta che salutarvi e rimandare Quadrato, ottimo il passaggio, Quadrato vediamo un po' si gira, passa, attenzione, Iguain, mamma mia Gonzalo Alexandro, guarda il cross in mezzo, attenzione, Alexandro, prova, Iguain, ancora lui Mangi piccia, ottimo, passaggio, Di Bala, Di Bala, Proventino, Di Bala, 1-0 Juventus, 1-0 Juventus, Paolo Di Bala, mamma mia che gol, spettacolare Attenzione allora, Quadrato, Paolo, passaggio, Di Bala, ancora lui, prova, Rete, Rete, Di Bala, 2-0, mamma mia, Paolo Di Bala, signori, che gol, gran gol di Paolo, signori, mamma mia che gol Attenzione, a Giappong, no, 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 stiamo attenti, Buffon, prova, no, la difesa, attenzione, no, non ci arriva, è gol Politano, vabbè, è gol, ragazzi, è la difesa che, che non è andata, eh, è la difesa, cioè, non, perché non c'è andato l'acchio La caccia di punizione, attenzione, caccia di punizione pericoloso, ci va Di Bala, pensavo, Pianici, Di Bala, prova il tiro, Rete, 3-1, 3-1 di Bala, signori 3-1 di Bala, mamma mia che gol, bomba, signori, guardate, attenzione, la mette dentro Mamma mia che gol di Di Bala, ed è tripletta, tripletta di Paolo Di Bala, mamma mia, signori, mamma mia Dopo quella di Genua, arriva il 3-1, mamma mia, ragazzi, che gran gol di Paulito Quindi, ragazzi, se questo era il video riguardante la live reaction a Sassuolo Juventus, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel pollicino in su Ed iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, attivate la campione lozza, ragazzi, ricordiamo che poi ci sarà la live reaction di Juventus Fiorentina Spacchiamo il culo ai viola, e noi ci ribecchiamo nel prossimo video, e sempre forza, Juve! Spooly, scary skeletons, and shivers down your spine, shripping skulls, they'll shock your soul, and seal your duty night Spooly, scary skeletons, speak with...